Degrado e sicurezza delle strade. In questi giorni si sono aperte vere e proprie voragini anche in quelle della città pierfrancescana. Ad esempio in pieno centro, una delle più grosse, spicca in Viale Veneto, nei pressi dell'incrocio con via del Prusino, situazione critica in via del Montefeltro. Ma i casi di dissesto del fondo stradale, usura del manto, crateri, avvallamenti disseminati qua e là tra centro storico e periferie, sono davvero molti. I lavori di manutenzione alla viabilità comunale sono previsti per una spesa complessiva di 5.000 euro di risorse di impegno 2012. L'intervento preso atto a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale del servizio ai lavori pubblici, dell'opportunità di provvedere alla sistemazione di alcune strade comunali, vista la presenza di buche e di sgregazioni del manto stradale, a seguito della stagione invernale caratterizzata da abbondanti piogge, ritenuto necessario provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione stradale tramite personale del comune Biturgenze. È considerato il sopravvenire della stagione primaverile anch'essa potenzialmente ricca di pioggia, che potrebbe portare al venir meno delle condizioni di sicurezza al traffico veicolare. In programmazione ovviamente altri interventi. L'auspicio dei Biturgenzi è che si proceda, oltre che tappando le singole buche più accretanti, intervenendo su tratti di strada più estesi, valutando oggettivamente i casi più urgenti.